Ha patteggiato 4 anni per tentato omicidio Francesco Colonna, l'ex guardia giurata che lo scorso gennaio, al culmine di una furibonda lite, sparò all'accognato ferendolo gravemente. Abbiamo concordato con il pubblico ministero, abbiamo ritenuto che fosse la strada migliore per il nostro assistito per definire e per poter compatibilmente con quello che accadrà adesso ripartire. Era lo scorso 25 gennaio, quando nel tardo pomeriggio, in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Benedetto Varchi, si era accesa una lite per motivi familiari legati all'assistenza dell'anziana madre, un diverbio tra l'ex guardia giurata e la sorella degenerato all'arrivo del cognato. A questo punto il 41enne aveva impugnato la pistola di servizio e esploso un colpo. All'arrivo i soccorritori avevano trovato il 46enne in un lago di sangue ferito all'addome, quindi la corsa all'ospedale, l'operazione e la rimozione del proiettile. Si è espresso Colonna nei confronti del cognato con una lettera rappresentando qual era il suo stato d'animo, quello che era il suo pentimento. Il 41enne incensurato sin da subito aveva collaborato con le forze dell'ordine. Sono state riconosciute le attività antigeneriche, ma questo significa al solito, non è che la giustizia è disponibile a fare sconti, sicuramente ci sarà stata una valutazione. Lo scorso febbraio era stato scarcerato, attualmente si trova agli arresti domiciliari e ha la possibilità di lavorare, dovrà anche risarcire il cognato in base ad un accordo sul quale poggia il patteggiamento. Anche a fine di un risarcimento parziale sarà fondamentale che possa continuare a lavorare, perché altrimenti ben difficilmente potrà far fronte a quello che si prospetta.